Una giornata intera di sopralluoghi mercoledì da parte dei tecnici della Protezione Civile Nazionale e Regionale a Pesaro. Sono state visionate tutte le aree cittadine danneggiate dal maltempo della scorsa settimana, dalla costa ai quartieri periferici fino al Parco San Bartolo, dove ci sono verificate 50 frane. Il risponso del piano redatto dai tecnici del Comune indica 11 milioni di euro di danni complessivi, dei quali 7,5 milioni subiti dai privati e 3,4 milioni relativi alle spese per la messa in sicurezza del territorio. 170 finora le segnalazioni arrivate all'amministrazione comunale, ma il numero è in costante aumento. Ora si attende di capire se il Governo coprirà i costi dei danni, con il riconoscimento dello stato di emergenza anche per le Marche, dopo averlo deliberato qualche giorno fa per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Si concluderà questa sera il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera attraverso l'estensione di un'ordinanza della protezione civile allo stato di emergenza anche per i comuni colpiti dal nubifragio nei territori marchigiani e toscani. Come ha ricordato il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che si dice fiducioso, la Premier si è presa l'impegno di predisporre un nuovo provvedimento ad hoc per le Marche. Convinto che l'Esecutivo nazionale riconoscerà lo stato di emergenza anche per le Marche è il Governatore Francesco Acquaroli. Io vedo soprattutto una grande collaborazione dalla nostra protezione civile e quella nazionale cercando di dare le risposte a quelle che sono le procedure che sono necessarie per il riconoscimento dello stato di emergenza. C'è tutta la disponibilità da parte del Governo, l'attenzione, la vicinanza. È chiaro che i tempi sono quelli imposti dalle norme ma noi siamo fiduciosi che quello che purtroppo è accaduto per l'ennesima volta, anche se in misura minore rispetto all'Emilia-Romagna, rispetto al mese di settembre, sarà non solo riconosciuto ma anche superato grazie all'aiuto delle istituzioni.